Presentato il 17 maggio al Salone del Libro, il volume L'agroalimentare in Piemonte, i brand che hanno fatto la storia. Dall'archivio storico della Camera di Commercio di Torino, in occasione dell'esposizione universale di Milano Expo 2015, con il contributo del Consiglio regionale, è stato presentato un volume che illustra una selezione dei marchi della prestigiosa e consolidata tradizione piemontese nel settore agroalimentare. A presentare l'opera realizzata dall'ANSA erano presenti Giannetto Baldi, responsabile delle sedi regionali, e Alessandro Galavotti, responsabile ANSA Piemonte. Presenti anche il Presidente del Consiglio regionale e Mariangela Ravasenga, responsabile dell'archivio storico della Camera di Commercio. In parallelo al volume da segnalare l'inaugurazione giovedì prossimo di una mostra a Palazzo Lascaris.